Benvenuti allo Stadio Olimpico di Berlino. Io mi chiamo Jana Klee e ho il piacere di darvi il benvenuto a questo percorso multimediale. Stiamo per visitare uno dei plessi sportivi più vecchi e più ricchi di storia in Germania. Lo stadio, infatti, non è solo un luogo storico, ma anche sede moderna multifunzionale per grandi eventi, di calcio, di atletica leggera, di concerti rock e pop, ma anche di altre manifestazioni importanti e offre un variegato programma occupando così una posizione di rilievo nel calendario eventi di Berlino. Nel 1909 in questa stessa area fu aperta la pista del Grunewald per le corse di galoppo e ostacoli, nel cui centro fu inaugurato già nel 1913 un primo stadio. Si chiamava lo Stadio tedesco. Con una capienza di 30.000 persone era a tutti gli effetti il primo grande stadio della Germania. Sia la pista da corsa che lo stadio stesso derivano da Otto March, il cui ufficio d'architettura a quel tempo era pioneristico nella realizzazione di strutture sportive. Dato che l'accento era posto sull'anello per le corse dei cavalli, per ottenere una miglior visuale parve logico erigere lo stadio tedesco incassato in un avvallamento. Qui vi era posto per diverse discipline sportive. Al centro del lato nord si trovava l'arena per il nuoto, con una piscina di 100 metri. Direttamente dietro c'era una pista per il ciclismo lunga 666 metri che a sua volta circondava un percorso di 600 metri. Con i nostri parametri lo definiremmo uno stadio tutto in uno, ideato come sede per i giochi olimpici del 1916, che a causa del primo conflitto mondiale non ebbero luogo. Dopo la guerra, il Comitato Olimpico Internazionale per due volte consecutive non invitò delegazioni sportive tedesche ai giochi. Tuttavia nel 1922, per la prima volta, qui ebbero luogo i giochi tedeschi. Una grande manifestazione nazionale sportiva a competizione. La riconciliazione a livello sportivo giunse solo nel 1928 per i giochi olimpici di Amsterdam. In concomitanza di essi, la Germania si candidò per ospitare le Olimpiadi del 1936 e Berlino ricevette nel 1931 l'appalto, ancora in piena Repubblica di Weimar. Una riconversione dello stadio tedesco era in vista, poiché a causa delle nuove esigenze risultava troppo piccolo e attempato. La capienza doveva essere portata a 70.000 spettatori. responsabile dell'impresa era l'architetto Werner Marsch, che rilevò l'ufficio di architettura paterno. A causa della crisi economica mondiale, molti dei piani di rimodellamento furono sacrificati. Per le sorti dei lavori bisognerà attendere l'arrivo al potere dei nazionalsocialisti nel gennaio 1933. Durante la Repubblica di Weimar, tra i giornali nazisti, molti come il völkische Beobachta si espressero apertamente contro i giochi olimpici, ma quando Adolf Hitler fu nominato cancelliere del Reich, si giunse a un'inversione di tendenza. A livello interno, di fatti, ci si lamentava del carattere tutto internazionale della manifestazione, ma in ciò si intravide anche l'occasione unica di presentarsi al mondo come una grande potenza sicura di sé e sovrana. A questo scopo si era anche pronti per la durata dei giochi a mettere da parte uno dei tratti distintivi del nazionalsocialismo, il razzismo. Ciò non avvenne volontariamente. Si formò, di fatti, un movimento internazionale di boicottaggio, tanto che lo stesso Comitato Olimpico fece pressione, così almeno per proforma, fu revocato il divieto a sportivi ebrei di far parte delle squadre tedesche. Nell'ottobre del 1933 Hitler visitò personalmente gli impianti sportivi e richiese una nuova versione dello stadio per 130.000 persone e dell'intera area per 500.000. Il lotto da edificare non possedeva un così grande spazio, dunque l'architetto Marsch dovette ricorreggere il suo progetto. L'ippodromo e lo stadio tedesco furono abbattuti e in soli due anni e mezzo lo stadio olimpico era eretto. Venne incorporato in quasi 130 ettari di parco sportivo, che offriva un numero altrettanto congruo di altre strutture per il training e i campionati, chiamato così Campo Sportivo del Reich. Lo stadio olimpico fu inaugurato con una capacità complessiva di 100.000 persone ed era il più grande stadio in Germania. Per i giochi olimpici c'erano a disposizione per i visitatori 64.000 posti a sedere e per gli altri spettatori solo posti in piedi. Dal nome Campo Sportivo del Reich ci si congedò per motivi di carattere politico all'inizio degli anni 50 quando si diede il nome Stadio Olimpico. A ridosso dei campionati di calcio del 1974 si approdò le misure di riconversione per lo stadio, ma con poca cura nel mantenimento della struttura, talché alla fine degli anni 90 si evidenziarono così gravi danni strutturali da prendersi in considerazione l'abbattimento stesso della struttura. Il salvataggio all'ultimo minuto giunse con la decisione della FIFA di concedere alla Germania i mondiali di calcio del 2006. Come luogo per la finale, lo stadio olimpico venne risanato e modernizzato tra il 2000 e il 2004 per 242 milioni di euro. Dall'esterno potete vincere quanto i beni culturali si siano imposti. La struttura per essere opera moderna e multifunzionale è rimasta sorprendentemente storica. Al suo interno, invece, molto è stato trasformato. Per comparire nel gruppo degli stadi di calcio europei di maggior spicco a 5 stelle, occorrevano molte conversioni e nuove costruzioni. Oggi lo stadio olimpico di Berlino si trova nell'Olimpia Park Berlin, uno degli stadi più famosi al mondo, e offre una sintesi spettacolare tra stadio storico e arena high-tech.